La rivelazione del colore Grazie alla vendita di alcuni disegni acquerelli nel 1914, può compiere un viaggio in Tunisia, insieme agli amici pittori Agus Mac e Louis Moulier. Questa esperienza risulterà decisiva nella definizione della sua ricerca pittorica. Questo è il momento più felice della mia vita. Il colore e io siamo una cosa sola. Sono pittore, dice. Infatti la percezione della ricchezza cromatica dei paesaggi africani lo porta a realizzare piccoli acquarelli astratti molto luminosi esposti al ritorno dal viaggio al primo salone della nuova secessione di Monaco. Negli anni immediatamente successivi, una serie di mostre, Berlino, Monaco e Zurigo, permette a Clay di riscuotere un notevole successo di pubblico e critica, facendo in pochi mesi salire considerevolmente le quotazioni delle sue opere. Al termine del primo conflitto mondiale realizza nuove opere, tra cui, dapprima innalzatosi dal grigiore della notte, al Kunstmuseum di Berlino, nella quale inizia a sperimentare un superamento delle tradizionali barriere linguistiche e formali, attraverso composizioni astratte che combinano parole, poesia, e colori, pittura. Questa ricerca prosegue con il ciclo quadri-poesia, anticipazione di ricerche artistiche che saranno sviluppate negli anni Sessanta dall'arte concettuale, dalla narrative art e dalla poesia visiva. Diversamente da quanto già fatto da cubisti e futuristi, che inserivano semplicemente lettere e numeri nelle loro composizioni, Clay esegue un nuovo procedimento che parte dalle diverse forme geometriche, cerchi, triangoli, archi, per arrivare a determinare colori e forme. Nel 1920 è chiamato da Walter Gruppius alla Bauhaus di Weimar, dove dirige l'Allegatoria, i laboratori di pittura su vetro, e dal 1927 un corso di pittura. Durante questo periodo, a modo di approfondire le sue teorie riguardo l'essenza dell'atto creativo, la costruzione dell'immagine e i meccanismi della percezione è soprattutto la fondamentale relazione tra processo creativo e mondo naturale. Per Clay, infatti, l'avvicinamento dell'arte alla natura non può avvenire attraverso l'imitazione, ma nella ricerca e riproduzioni delle leggi della creazione. Clay sostiene che per l'artista la comunicazione con la natura resta la più essenziale delle condizioni. L'artista è umano e è egli stesso natura, parte della natura all'interno dello spazio naturale. Nel 1924 con Kandinsky, Feininger e Jauleski fonda il gruppo di Blaufir, i Quattro Azzurri, che terrà molte mostre, soprattutto negli Stati Uniti. Nel 1925, al causa del trasferimento del Bauhaus, si sposta a Dessau, dove vive a casa di Kandinsky. Nello stesso anno partecipa alla rassegna di pittura surrealista alla Gallerie Pierre di Parigi, e per la prima volta la National Gallery di Berlino acquista una sua opera. Nel 1929 realizza uno dei suoi dipinti più noti, Strade Principali e Secondare, in cui appare chiaro, come per Clay, l'astrazione pittorica si manifesta attraverso rappresentazioni di tipo ideografico. Il quadro, prospettiva di una città immaginaria costruita attraverso linee incrociate, appare come una riflessione sulle nuove realtà metropolitane, che diventano per l'artista svizzero paesaggi da indagare e rappresentare in termini fantastici. Nel 1930 interrompe la sua collaborazione con la Bauhaus per accettare l'anno seguente la cattedra di pittura all'Accademia di Dulseldorf. L'avvento al potere di Hitler porterà nel 1933 al suo licenziamento e alla presentazione di ben 17 sue opere nella mostra dell'arte degenerata organizzata dal regime nazista nel 1937. Diventa quindi inevitabile un suo trasferimento in Svizzera, dove realizzerà fino al 1940, anno della sua morte, un'immensa quantità di opere, nel 1939 più di 1200, caratterizzate dall'uso di colori cupi e forme dai marcati contorni neri. Essenziali per comprendere il vastissimo ed eterogeneo lavoro dell'artista svizzero sono i diari scritti tra il 1898 e il 1918. È il suo lavoro teorico e didattico, La confessione creatrice del 1918 fino al 1920, quaderno di schizzi pedagogici del 1925, e Teoria della forma e della figurazione pubblicato solo nel 1956, comprendente undici brevi saggi sulla concezione dell'arte e un corso di lezioni riguardo il divenire della forma, svolte alla Bauhaus di Weimar tra il 1921 e il 1922. Dalla lettura di queste pagine emerge chiaramente come Klee tenti costantemente di unire alla personale ricerca poetica una più generale teoria del fenomeno creativo della percezione, del movimento, dei valori simbolici nella forma, nei segni, nella luce e nel colore.